vediamo se ricordo ancora come si fa buonasera a tutti ragazzi operativi come sempre bentornati in un nuovo video ebbene si ragazzuoli sono io sono andrea mereu e sono assolutamente io in carne ed ossa e siamo tornati con questo nuovo video perché devo annunciarvi una cosa che avrete sicuramente già intuito dal titolo che avrò dato a questo video ovvero si torno torno su youtube torno dopo tanto tempo a fare video a fare live insomma a caricare contenuti allora questo video chiaramente lo faccio perché è giusto che ci sia proprio un video che in qualche modo vada ad annunciare questa cosa ma soprattutto mi serve anche per spiegare le modalità con cui torno su youtube chi mi conosce da più tempo chi mi segue dagli albori dall'inizio dalle origini del canale youtube andrea mereu sa perfettamente che quando ho iniziato ho preso molto a cuore questa avventura sul tubo soprattutto per quanto riguarda il palinsesto se così possiamo definirlo perché comunque la mia intenzione era giusto appunto quella di poter caricare in maniera continuativa video in primis sul Cagliari ma in generale comunque sul calcio anzi addirittura all'inizio proprio caricavo contenuti sia sul Cagliari che anche su altre partite altre tipologie di contenuti poi chiaramente strada facendo mi sono reso sempre più specifico sulle argomentazioni del Casteldu fino ad arrivare poi alla decisione che già conoscete di qualche tempo fa di abbandonare il tubo perché perché comunque le priorità da un punto di vista lavorativo a livello comunque familiare e quant'altro mi hanno portato a prendere quel tipo di decisione semplicemente perché non potevo perseguire quello che avevo diciamo in mente di fare relativamente al canale youtube cioè per quanto mi riguarda l'idea di caricare appunto video ogni tanto non sapendo quando non mi piaceva non mi piaceva ed è stato quello il motivo principale per cui ho deciso di smettere a distanza praticamente ormai credo di due anni e anche qualcosa in più nonostante qualche video e qualche live sporadica che ho fatto sia sul mio canale e anche qualche intervento su altri canali dei miei amici collaboratori sul tubo ho deciso di tornare deciso di tornare ma chiaramente ponendo non dico dei paletti ma semplicemente volendo spiegarvi fino all'inizio come intendo tornare perché sostanzialmente le cose sono cambiate non sono cambiate rispetto a due anni fa nel senso che comunque per me la priorità rimane chiaramente il lavoro e tutto il resto quindi la lavoro insomma tutte le priorità che comunque ognuno di noi ha nella sua vita nel suo quotidiano quindi questo chiaramente rimane invariato per quanto mi riguarda ma diciamo che la voglia di tornare sul tubo anche complice messaggi che ho ricevuto comunque anche recentemente considerando che ho fatto una live pochi giorni fa considerando che ho fatto un sondaggio su instagram rispetto all'idea di poter tornare su youtube e tanti mi hanno risposto dai torna dai faccia sapere quando torni eccetera eccetera insomma complice la richiesta generale da parte delle persone complice soprattutto la voglia da parte mia di poter tornare comunque a tornare a fare video a condividere quella che è la mia passione per il calcio ho detto ok torniamo ma ovviamente ponendo fin da subito dei paletti quindi ve lo dico subito il mio intento sarà quello di caricare contenuti sul cagliari punto primo quindi non intendo andare a pubblicare video post partita di altre partite questa è una cosa che in generale nell'ultimi tempi anche della mia attività prolungata su youtube non ho praticamente più fatto e non ho intenzione di fare proprio in questo ritorno sul tubo in primis il secondo aspetto chiaramente è quello che il video post partita del cagliari lo farò chiaramente subito dopo il match se avrò modo e tempo di vederlo quindi se non sarò al lavoro e avrò la possibilità di vedere il cagliari il video post partita ci sarà senz'altro come facevo in passato per quanto riguarda invece il fatto di non vedersi la partita perché magari sono al lavoro tipo roma cagliari di ieri non l'ho vista quindi non l'andrò a commentare con un video post partita dopo la fine del match ma magari farò il giorno dopo una live se avrò la possibilità di farla per commentare insieme a voi anzi per farmi dire da parte vostra come avete visto il cagliari la prestazione eccetera eccetera e per quanto riguarda le live durante le partite è una cosa su cui ancora devo valutare perché chiaramente come vi ho anticipato su instagram ho messo la fibra a casa quindi a livello di velocità di connessione dovrei essere in grado di sostenere diciamo sia la live sul canale e la visione della partita tramite da zone perché ricordiamoci da zone sostanzialmente sfrutta internet quindi in teoria con la fibra che ho messo in casa dovrei essere in grado di supportare entrambi contemporaneamente ma è una cosa da vedersi è una cosa ancora da verificare pertanto dovrò fare magari una prova quindi verificherò una volta così giusto un test anche di un'altra partita non per forza del cagliari ma lì poi vedremo insomma e farò un test cercherò di capire se la visione della partita mi è resa possibile anche in concomitanza di una live sul canale perché onestamente quella è una cosa che mi piacerebbe fare ma devo capire la fattibilità della cosa quindi ragazzi con questo vado in conclusione non voglio far durare il video più di tanto quindi i'm back come si direbbe in questi casi sono tornato sul tubo e ben presto vi farò sapere quando appunto sarò online o semplicemente andrò a caricare contenuti legati chiaramente al cagliari io intanto vi ringrazio per il supporto spero veramente che la cosa vi faccia piacere fatemelo sapere se vi fa piacere commentando qui sotto nei commenti e lasciando un bel pollice di incoraggiamento ragazzi che dire sono tornato sono contentissimo e ci becchiamo presto un saluto a tutti e forza castello e ci vediamo sempre ciao ciao